Volevo fare un appello e dire guardate che la protezione civile di Verbagna non entra in casa, non chiede di entrare in casa, abbiamo sentito che qualcuno lo sta facendo indossando giubbotti della protezione civile, noi non entriamo in casa e non chiediamo soldi a nessuno. Socio a quanto detto dall'assessore Rabaini, anche come Croce Rossa stiamo svolgendo numerosi servizi di consegna a domicilio in collaborazione con la protezione civile, i nostri volontari non entrano nelle abitazioni e non sono autorizzati a richiedere donazioni in denaro o di altra natura. Chiediamo, ove ciò avvenisse, di segnalarci queste situazioni in maniera tale che ci possiamo attivare per verificare cosa sta succedendo. Grazie mille.